Carissimi utenti, ecco la scuola calcio striano, oltre 40 anni di vita, tanti anni di calcio per far emergere i giovani, per costruire un futuro ai giovani. Ecco nelle immagini gli esordienti quest'oggi che si scontreranno contro gli Aquilotti di Sarno. Presidente Luigi Corrado, 40 anni di storia, davvero una realtà presente che ha valorizzato sempre il calcio giovanile astriano. Quest'anno qual è il suo progetto? Bene, quest'anno diciamo che siamo partiti abbastanza bene, io lo chiamo anno zero, perché sono tre anni che non abbiamo una struttura sportiva, quindi pericuriamo un po' su tutti i campi nei dintorni, sia per gli allenamenti che per le partite di cartello. Però a questa inefficienza noi siamo stati sempre presenti, già da tre anni, anzi da tre anni a venire qua senza impianto sportivo, siamo sempre presenti. Quest'anno lo chiamo anno zero perché i progetti sono bellissimi, sono carini, ho la valla dei miei collaboratori che oltre a fare i tecnici sono diventati collaboratori in società, cito Luigi Gatti, cito Michele Cordella, cito Michele Credoso, cito Ciccio De Vivo, nonché il direttore Marchesano Michele. Quindi ci siamo dati anche una struttura nuova sul piano societario e questo a me fa immensamente piacere perché finalmente trovo dei ricambi istituzionali a questa che è la storia della scuola calcio austriano. In questo momento la scuola calcio austriano sta effettuando il riscaldamento, 40 anni di storia sono tanti Presidente, ecco come si riesce a raggiungere questo traguardo, 40 anni di storia di calcio? Devo precisare una cosa, si raggiunge prima di tutto con tanta 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 passione, io nel settore giovanile, diciamo così questa è una scuola classica che ho creato io assieme a Maglio Marciano oltre 40 anni fa, per adesso continuiamo a portare il nostro discorso avanti e solo e con tanta tanta passione. Si riescono a raggiungere dei traguardi perché ci condorniamo di persone efficienti e capaci per portare avanti il discorso. Striano è una piccola realtà, chiaramente noi facciamo il massimo per poter emergere nel gioco del calcio. Oggi abbiamo gli esordienti che rappresentano, manco a farlo apposto alla prima squadra di Striano, se parliamo che 4 anni fa il gruppo sportivo Striano ha raggiunto le semifinali per andare in quarta serie, oggi da 4 anni a adesso non esiste niente. La squadra di esordienti, ossia 2003-2004 rappresenta una realtà per il calcio stianese. Siamo con il direttore sportivo Michele Marchesano, l'attività della scuola calcio Striano è molto ampia, in anteprima lei mi ha parlato di partecipazione anche nei mesi estivi a tornei nazionali o internazionali. L'attività oltre che ad essere calcistica e quindi seguire un campionato FIGC, quali sono gli altri tipi di tornei che voi partecipate? Per quanto riguarda le attività sportive, noi quest'anno abbiamo oltre i piccoli amici e quindi le categorie 2010 in poi, abbiamo anche le categorie 2007, le categorie Pulcini 2006 e la categoria esordienti 2003. Ci basiamo soprattutto su queste categorie e per quanto riguarda invece le attività agonistiche durante il periodo estivo, diversi anni esplichiamo attività a livello nazionale ed internazionale anche con tornei oltre l'Italia. Come diversi anni fa siamo stati in Germania, all'ESCAO, abbiamo partecipato a un torneo di esordienti sia con le categorie esordienti che con i categori Pulcini e a diversi anni siamo stati anche in Sardegna, sempre con le categorie esordienti e Pulcini. E poi quest'anno molto probabilmente sarà l'anno in cui ritorneremo di nuovo a partecipare ad altri tornei all'estero. Siamo con i responsabili dell'attività di base della scuola calcio austriano, Luigi Gatti, qui nelle immagini. Ecco Gatti, davvero un'attività molto intensa, ci sono moltissimi giovani che partecipano alla vostra scuola, molti iscritti. Ecco, finora in che cosa è consistita per quest'anno l'attività di base? Per l'attività di base noi abbiamo voluto intendere quello che intendono le direttive generali della FIGC, per cui quando si parla di attività di base si parla del percorso che compie un bambino appena iscritto a scuola calcio fino al raggiungimento dell'età agonistica. E' chiaro che per quanto riguarda le categorie dei piccoli, quindi dei piccoli amici e dei pulcini primo e secondo anno parliamo comunque di bambini che iniziano la loro attività sportiva con il gioco del calcio e quindi abbiamo a che fare con una sensibilità particolare. Avendo a che fare con queste categorie, la nostra premura non è soltanto quella di educarli allo sport e quindi educarli ad una vita da atleti, ma anche quella di collaborare insieme al genitore ad una fase di crescita che si proietti nell'ambito vitale, quindi a prescindere da quello dello sport.